Caduto a terra dopo essere scivolato sul marciapiede di Sestato. Un 75enne all'epoca dei fatti aveva riportato una grave lesione alla spalla con tanto di rottura. L'incidente era avvenuto 5 anni fa a lungo via alle Venezia, a Campo San Piero. Un tappeto di foglie nascondeva l'asfalto sconnesso e così l'anziano aveva fatto causa al comune che doveva occuparsi della manutenzione. Il Tribunale di Padova ha condannato dopo 5 anni l'amministrazione a risarcire il 75enne di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali per una somma di 10.000 euro più tutte le spese legali. A causa dell'incidente infatti l'uomo si era sottoposto a terapie di riabilitazione piuttosto costose.